Eccoci e bentornati sul mio canale! Riprendiamo con Batman Arkham Knight! Dobbiamo proteggere la pianta di Ivy perché ci servirà per evitare l'attacco alla città delle tossine! Andiamo! Adesso ci divertiamo ragazzi, adesso ci ridivertiamo! Sì, tranquilla, ci penso io, boccacchio! Quanto è grosso quello? Via! Via, 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 via! Scappa! Via! Forza! Vai! Via, via, via! Forza! Via, via! Via! Vai! Scappa! Bene! Ok, scappa! Ok! Oh cacchio! Vieni qua! Ma questo non ho niente! Oh, questo lo posso prendere ma... Via! Aspetta! A posto! Vieni qua! Non manca molto! Forza, forza! Forza! Dai, 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 dai che augurarcelo. Tu resta nei giardini, Ivy. Ti avverto quando la situazione cambia. Alfred, dimmi che hai trovato il nubifragio. Vorrei farlo, Sir, ma sto trovando parecchie interferenze. Senz'altro un deliberato tentativo di occultare i loro spostamenti. Fai un'analisi delle forze del Cavaliere. Certo, Sir, ma ci vorrà del tempo. Quando hai dati caricali sul batcomputer agli studi cinematografici. Sì, Sir. Nel frattempo ci sono ancora numerosi casi aperti da investigare. No, non te preoccupate. Dobbiamo fare sempre le missioni principali, poi ci buttiamo sulle secondarie. Andiamo. Alfred, vado agli studi cinematografici. Prepara l'analisi della Roccaforte del Cavaliere di Arkham su Founders Island. È l'ora di passare all'offensiva. Molto bene, Sir. La Tana del Lupo l'attende. Andiamo, ragazzi. Nella Tana del Lupo. Studi cinematografici. Come prossima missione. Oh. Prima un po'. Oh, guarda quando gli dai l'accelerata. Che bestia che è. mamma mia. Non vedo l'ora di sfondarmi con il Cavaliere di Arkham. Vanessa Studios. Allora. Sta lì sovra, eh? Arrivo. Così ben c'è nessuno qua. Mi pare strano, regà. Mi sembra alquanto strano che non ci sia nessuno. Pensa che in questo momento Robin è laggiù a progettare la sua vita con Barbara. Staranno pensando come chiamare tutti i pipistrellini che avranno. Che ragazzo fortunato. Lei è così carina. Apre. Anche se è un po' troppo morta per i miei gusti. Mamma mia, però. Ok, qua c'eramo venuti già con l'agente Gordon, se ben ricordate. Sir, come pensai di dire al signorino Drake di Barbara? Ne sarà distrutto? Potrebbe fare qualche pazzia. Non lo farò. Non ancora. Devo concentrarmi sulla cura. Sir, tenerlo all'oscuro del rapimento era discutibile. Ma questo è sbagliato. Dobbiamo fare dei sacrifici, Alfred. Valuti oculatamente questi sacrifici, Sir. Se scopre che è morta e lei non gliel'ha detto, potrebbe perderlo per sempre. Pure questo è vero, però. Che dite? Che facciamo? Eh, è una decisione un po' difficile. Celle di quarantena. Peggio. Immagino che non sia una visita di cortesia. Là fuori è l'inferno che penso. Peggio. Ma niente che tu non sappia sistemare, eh? Hai promesso di lasciarmi uscire. Cosa dirà mia moglie? Sir, gli scanner a lungo raggio non rilevano il nubifragio. Usa il Batwing per una scansione termica a basso livello. È impossibile, Sir. Founders Island è protetta da due torri radar collegate a un lanciamissile a lungo raggio. Non riuscirà ad avvicinarsi con il Batwing e nemmeno con la Batmobile, temo. Posso distruggere le torri radar a piedi, se riusciremo a disattivare i droni che le proteggono. Beh, ci sarebbe una possibilità. Ho individuato un drone speciale che sembra agire come snodo di smestamento di tutte le comunicazioni. Se riuscissi a prendere quel drone si potrebbero riprogrammare i protocolli di sicurezza per darmi modo di manomettere le torrette radar. Questa è una possibilità, Sir. Però sembra pericoloso, un po' troppo. È l'unico modo che ho. Ti farò sapere. Non ho ancora sentito Barbara. Fidati, Robin. Sta bene. Mi servi concentrato sulla cura. Non devi fare tutto da solo, Bruce. Posso aiutarti? Va tutto bene. Ci serve l'antidoto. Ci siamo quasi. Manca poco ormai. Senti, se servi aiuto, sai dove trovarmi. Plana sul drone di trasmissione ed esaminalo per trovare un modo di sconfiggere i droni. Quindi siamo diretti... Credevo davvero che gliel'avresti detto. Totale sincerità, come con Gordon. Oh, ma hai capito. Non voleva la pena di spezzarlo ora se possiamo distruggerlo più tardi. Una vera mossa alla Joker. Stiamo assistendo a una meraviglia, Batman. Allora ho frugato nella caverna piena di pipistrelli che chiami mente e sembra che tu creda davvero nella storia della cura. Allora, siamo diretti all'altra isola, ragazzi. Andiamo, va. Siamo diretti verso l'ultima isola, a quanto pare, ragazzi. E quindi ci avviciniamo sempre più alla resa dei conti. Purtroppo non ci potremmo avvicinare con la Batmobile perché ci sono i cannoni a distanza. E quindi dobbiamo prendere in possesso... Dobbiamo prendere... Lavora con Batman. Quello fuori si asfalterà. Via! Ok. Vado! Dico, quindi dobbiamo prendere il controllo di questo drone che funziona... Quasi ha la funzione di comunicazione... Di comunicazione per disattività. Attivare questi cacchio di droni. Andiamo giù, va. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok. Quindi si va tutta a fette, ragazzi. Cacchio. E qua, giriamo di là. Via. Ok. Andiamo. Come tutte le volte, per andare a un'altra isola, dobbiamo fare il lavoro sporco noi. Bene. Vai, vai, vai. Sali qua. Perfetto. Oh, cacchio. Qua vedo belle rugne. Se è morta, il nostro problemino di erbacce si risolverà da solo. Quando è il cambio? Vuoi andare a caccia di pittistrelli? Non fino a domattina, soldato. Fino ad allora, la torre resta chiusa. Il cavaliere ci spiega per mesi come uccidere Batman, e poi ci muola lui ad aspettare tutta la notte. È così che sono... Se riesco a recuperare il chip di comunicazione all'interno di quel drone di trasmissione, potrei riuscire a disattivarli. Dove sta sto cacchio di drone? Cacchio lo piamo, per cacchio dei drone, raga. Penso che sia una cosa facile, eh. Vai, andiamo un po'. Se c'è se può planare sopra. No, dove cacchio è andato? Ma perché ha fatto sta credinata? Aia, aia. Oh, e che cacchio? Porco cane. E che? E che sarà successo mai? Mamma mia. Piano. Attaccano come se non ci fosse un domani. No, no. Con i miei occhi. Per eso. Molto bene. Il chip di trasmissione disattiverà per un po' i droni. Dovrai avere il tempo di neutralizzare le due torri radar. Infiltratore remoto, hacker per droni. Disabilita temporaneamente i sistemi di puntamento dei droni. Il congegno può disabilitare un drone in ogni movimento. Bello. Mossi, mossi. Distruggi la rete di radar del Cavaliere di Arkham. Devo distruggere il radar prima che i droni tornino operativi. Vai. Sbrigate, sbrigate. Corri, corri. Ivy, non dovrebbe collaborare con Batman. Il briefing diceva che è uno dei nostri. Cacchio. Aspetta. Aspetta, il gel esplosivo. Il gel esplosivo. Eccolo. Vai. Brigate, brigate. Dai, disattiva il primo. Su. Su. Ancora 30 secondi. Ciò. Benissimo. La prima torre radio è sistemata. Andiamo. A ogni unità, nessuna copertura radar nel settore 1. Probabile avaria. Assegno una squadra tecnica. Ignorate l'ordine. Era Batman. Torre radar B, preparatevi. Passaglio alfa in arrivo. Non perdere questo radar. È l'unica cosa che gli imperisce riportare quel carro armato sull'isola. La vedi però? Come sanno le cose. Allora, no, aspetta. Ho premuto male. Dovevo attivare l'infiltratore remoto, fumogeno, lanciacavo. Penso sia sempre questo qua, l'infiltratore remoto. Allora, qua chi c'è? Oh, cacchio. Qua ci stanno un mare di nemici, ragazzi. Però forse potrebbe funzionare l'idea. È incredibile che sia uscito vivo da quei dirigibili. C'erano dei bravi uomini lassù. È questo, no? Sta qua sotto, eh? Date allerta, non possiamo perdere il cibo. C'erano dei bravi uomini, ragazzi. Vai, vai. Via, via. Ma perché c'ho così poche energie? Che cacchio è successo? Oh, oh, oh. Perché c'è... Ah, perché me l'hanno levata prima. Quelli là. Via, 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 via. Scappa. Forza, forza. Oh, oh. Dai, abbiamo messo i veloci. E non ci abbiamo fatto ca'. Su. Vai. Oh, cacchio. Via. Via. Cavolo. Via, via, via. Aspetta. Ok. Via. Via, via. Vai, 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 vai. Sbrigati, sbrigati. Corri, 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 corri. Vai. Boom. Voilà. Benissimo, ma così ho recuperato l'energia. Ah, Bruce. So come ti senti per quel cavaliere da strapazzo. Esattamente come mi sento io per quei finti Joker agli studi cinematografici. Ci può essere un solo Joker, Batman. E sono io. Cioè, sei tu. Ok, noi. Ora facciamo la cosa giusta. Massacriamo... Posso usare l'infiltratore remoto per disorientare temporaneamente la torretta. Sì, non male come idea. Allora, allora. Aspetta che... Aspetta, ma... Ok, non mi fraggio al sicuro. Al sicuro dove? Sai che il cavaliere non me l'ha detto? È strano. Eravamo tanto amici. Vai, vai, vai. Stacca. Benissimo. Benissimo. Stacca la seconda. Vai. Benissimo. Ok. Da paura, regà. No, vai. E spacca pure questo, va. Così si arriva con la Batmobile anche sull'altra isola. Così sì che ci divertiamo. Perfetto. Alfredo, ho sistemato il radar. Ora resta solo la triviale questione del lanciamissili a lungo raggio. Una volta neutralizzato, il Batwing potrà cercare il dispositivo Nubifragile. Ci sto andando adesso. Ok, dobbiamo solamente eliminare il lanciamissile a lungo raggio, ragazzi. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e condividete il mio video. Ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.